no c'è piedi che avanzano fuori dall'obiettivo e di fatti mi sembra un po 18 secondi ragazzi tengo quella porta leo leo la tengo io 10 secondi e via no c'è che me lo stronzo come l'ha stirata era già lì in c4 ho capito ma non l'ha visto madonna c'hai visto un tango che è uscito sono quello che ha meno chi il signor quanto è cattivo il mio questo però